Filippo consentimi di usare il microfono di tutto il calcio per un saluto, questa è stata la mia ultima radiocronaca. Ho avuto il privilegio di far parte della squadra di tutto il calcio minuto per minuto e di aver lavorato con gli ideatori di questo gioiello, consentitemi di chiamarlo così, Guglielmo Moretti, Roberto Bortoluzzi e Sergio Zavori. Tutto il calcio ha ormai, come sappiamo tutti, 57 anni, ma è una trasmissione ancora giovane. Giovane e bella, vorrei dire, e durerà a lungo, almeno finché esisterà la passione nostra e vostra per il calcio. Grazie alla RAI, grazie davvero alla RAI per le opportunità che mi sono state concesse, alla straordinaria redazione sportiva di Radio 1, ma soprattutto a voi, a voi che avete scelto e che scegliete di ascoltarci. Grazie a te Filippo, cedo a te la linea, ancora una volta naturalmente, e questa volta posso dirlo, è davvero tutto, a te Corsini.